Siamo appena partiti e siamo già in coda nella tangenziale di Mestre, quanto ti amo Mestre! Buongiorno, abbiamo appena preso la A27 in direzione montagna! Ho appena preso la strada che mi porterà a Fregona, piccola località, dove ho veramente tanti ricordi, uno su tutti, il capodanno del 1990, il mio primo cambio di decennio, su un po' di tornanti e poi siamo arrivati! Il vetro di transito con mezzi motorizzati... Ecco, siamo in montagna! Viva! Oh my god! Se guida è il flux! Il flux, sì, il tiro, sì! Eccolo! Però è la guida! Ciao, che co! E io! Ah, ma ci devi prendere! Buongiorno! Ma aumenta così tanto la fronte? La sbrega! Sì! Vai per il nome. Ma l'altro, o lì... Oh! Che è?